Oggi seconda prova, voi che scuola fate? Turistico, Olivia. Che cosa è uscito? La programmazione di un evento e poi la seconda prova dovevamo scegliere due quesiti, diciamo, scelta, tra cui analisi SWOT. Come è andata? Una via di mezzo, dai. Era difficile. Sì, però poteva andare peggio, diciamo, dai. Come vi sentite adesso? Libere, un po' tristi, forse un po' demoralizzate, però libere, quindi è un passo vicino alla fine. Adesso via colorale? Sì, non ci voglio pensare. Com'è andato l'esame? Dai, è normale, cioè, ho fatto tutto quello che devo fare, quindi aspetto solo il risultato. Che scuola fai? Linguistico. Di cosa trattava l'argomento uscito? Era spagnolo, quindi avevo delle comprensioni nel testo e poi produzione scritta. Adesso io ho un altro esame, perché faccio ESABAC, quindi ho un altro scritto di storia e letteratura francese. Che scuola fai? Liceo linguistico in Alfia Polloni. Che lingua è uscita nella seconda prova? Spagnolo. Com'è andata? Bene, bene, dai, speriamo bene. Era la terza lingua, quindi in teoria era la più facile. Ed erano due testi, è stato un po' complicato, però dai, speriamo bene. Presto l'orale? Sì, lunedì. E dopo gli esami che hai qualche sogno nel cassetto da realizzare? Vorrei entrare nella scienza della formazione per diventare maestra, speriamo in bene. Ragazze, che scuola fate? Le commerciali. Oggi vedo uscire tutti un po' distrutti rispetto a ieri. Eh sì, perché comunque la prova di economia aziendale è sempre piuttosto rispetto al tema, ovviamente. Quante ore avete avuto a disposizione? Sei ore ieri e sei ore oggi. E vedo che comunque quasi tutti le hanno utilizzate tutte perché stanno uscendo tutti adesso. Era difficile? Sì. Cioè, sì, se non studi e se non sai le cose, economia aziendale è difficile a prescindere. A voi com'è andata? Qualcosa siamo riusciti a fare, qualche punto ce lo daranno, poi dopo speriamo che col tema riusciamo a alzare. Anche perché comunque sono uscite tracce abbastanza facili magari rispetto agli anni scorsi, quindi ieri al tema ci siamo trovate bene. Per quanto riguarda invece la seconda prova, aspettavate cose diverse? No, anzi ce l'aspettavamo un po' più difficile. Era difficile ma ci aspettavamo peggio, quindi in realtà è andata bene. Hai avuto la prova di economia, com'è andata? È andata bene, sono soddisfatto e vediamo quali sono i risultati. I tuoi compagni di scuola come si sentono? Vi sentite tutti più leggeri? Io sì, loro forse, però adesso stiamo bene, sono soddisfatti. Premetto che sono appena uscite dalla prova di economia aziendale. Raccontateci come avete vissuto, come state vivendo questa maturità? Malissimo, veramente male. Io non vedo l'ora di andare al mare. È stato molto difficile? Sì, secondo noi sì, però vabbè dai, abbiamo fatto. Com'è andata? Eh dai, di scritto. Ecco, è arrivato un altro vostro compagno, com'è andato l'esame? Bene, dai, non ci si può lamentare. Come ti senti adesso? Libero, ancora no perché c'è l'orale, però per adesso, per un po' di tempo sì. Ok, siete contenti, progetti per il futuro? Allora, io penso che prenderò una strada completamente diversa da questa qua, quindi, però sì, già ho dei progetti in testa e penso di seguire quelli. Tu? Eh, io e lui andiamo a fare l'università insieme, scienze motori. A Urbino. Giurisprudenza a Urbino, sempre. Sono stati due giorni un po' duri, però comunque la vita ci riserverà altre prove molto più forti, molto più determinanti. Ieri è andata bene, oggi non mi esprimo. Eravate tantissime scuole tutte qua oggi, radunate qua, però vedo che chiunque è uscito, nessuno proprio che è uscito ha detto sì, è andata bene. No, perché? Perché ci vogliamo rassicurare tra di noi. Aspettative? Non lo so, già un 12 comunque non sarebbe male su 20. È un bel 6, pulito pulito, però comunque sono aspettative molto alte. Che esame è uscito oggi? È uscito il bilancio terzo di economia aziendale con i dati a scelta, poi c'erano dei vincoli, quindi per quanto riguarda l'anno 2000, il primo anno, è insomma un compito sempre impegnativo, più i due punti a scelta, e ci ho dato da fare insomma. Com'è andata però alla fine? Beh dai, io il compito l'ho completato, gli esercizi a scelta li ho fatti, quindi sicuramente qualche errore scappa, però dai, l'importante è insomma essere arrivati fin qua e aver fatto il possibile, come sempre. Oggi riposo e poi giù sotto a preparare gli orali? Esatto, oggi riposo, stasera partita dell'Italia, e poi da domani si ripongono a studiare perché martedì ci sono gli orali. Quindi ultimi sforzi e poi ci godiamo l'estate. Grazie. Grazie.